Si tratta di un virus a DNA che si chiama MPXV, la cui somiglianza con il virus del vaiolo ha fatto inizialmente denominarlo come virus del vaiolo delle scimmie. La malattia si presenta, ad eccezione che nei bambini, negli ospiti immunocompromessi, nelle donne in gravidanza, in forma molto variabile, da forme asintomatiche a forme paucisintomatiche. Le forme sintomatiche si caratterizzano in forma molto meno grave come era il vaiolo, cioè con febbre, malessere, coinvolgimento della cute. Non possiamo dire in questo momento che sia necessario in tutti i casi il trattamento, così come non è necessario in tutti i casi provvedere ad una vaccinazione che io non credo sarà di massa, ma sarà molto selezionata. La malattia si trasmette in maniera molto diversa rispetto a Covid-19 che ha una trasmissione per via aerea. Sì, per carità, anche qui ci può essere, però è una situazione, direi, non è la regola, è l'eccezione. E l'altro aspetto fondamentale è che mentre quello era un virus ignoto, questo è un virus noto. C'è un vaccino, altri sono in preparazione.